E adesso finalmente possiamo cominciare secondo la scaletta che tu avevi deciso di seguire tempo fa. No, io sarò velocissimo per introdurre l'argomento, ma in realtà ci siamo già entrati, anche perché poi sono felice di essere qua con Pier Giorgio. Io mi ricordo la prima volta che ero di là, dove è l'altra piazza, con Mario Tozzi, mi ricordo che cominciai a fare una canzoncina per spiegare la regola del teorema di Ruffini, una cosa per scomporre polinomi, e vidi, a un certo punto incrociai lo sguardo e vidi seduto lì Pier Giorgio. Ruffini, ah no, per Giorgio Di Freddi. E voi capite l'attenzione di fare una canzone per spiegare la matematica con Pier Giorgio? Lì è come aver scritto una canzone per fare la pasta al burro e avere Carlo Cracco davanti, è una sensazione forte. Quindi sono felice di essere qua per provare a rispondere a una domanda, che è a che cosa serve la matematica. Ora in realtà qua ci abbiamo già avuto, secondo me, un indizio, quindi invece di rispondere che secondo me possiamo subito entrare nel vivo, ti chiederei, hai un esempio pratico in cui, un altro esempio in cui possiamo vedere la potenza della matematica Pier Giorgio? Ma anzitutto risponderei, perché questa è la domanda che si fa sempre, non soltanto ai matematici, ma a tutti coloro che fanno cose utili, naturalmente nella vita, i fisici, i chimici, i biologi, cos'altro c'è al mondo? Ah, i geologi, naturalmente che mi stavano guardando malamente, così. Però Richard Feynman, che era un grande scienziato dello scorso secolo, premio Nobel per la fisica, e naturalmente pure lui ogni tanto riceveva domande di questo genere. Anzitutto quando ho preso il premio Nobel, arrivò un giornalista, sapete come sono i giornalisti, in questo festival ce ne sono parecchi, e naturalmente noi li apprezziamo molto, ma sappiamo anche come sono, e questo giornalista arrivò da Feynman e gli disse professore, siamo in televisione, mi dica in un minuto che cosa ha fatto per prendere il premio Nobel. E lui rispose, se lo potessi dire in un minuto non mi avrebbero dato il premio Nobel per queste cose, ovviamente non si poteva fare, però i giornalisti questo non lo sanno. Ma in realtà Feynman una volta rispose alla domanda a cosa serve la fisica, e lui disse la fisica è come il sesso, i bambini sono andati via, la fisica è come il sesso, sicuramente ha degli effetti pratici, serve a qualcosa, ma non è per questo che lo facciamo. E in effetti noi dovremmo rispondere così anche con la matematica, la matematica e la fisica si fa, lei applaude per il sesso o per la fisica? Per tutte e due, giustamente, naturalmente. L'idea è che le cose si fanno perché piacciono, poi magari servono anche a qualcosa, anzi la matematica serve a tutto, praticamente, tutto ciò che noi facciamo è matematica. Ma lui, che adesso fa lo sdegnoso perché ho fatto la battuta sul sesso, fatta da Feynman, però mi spingeva e dice spiega quella roba là. Perché per farvi vedere come a volte si può applicare la matematica anche più astratta, o magari la scienza più astratta, vi volevo fare un piccolo esempio che si chiama il problema dei tre corpi, che è un problema famosissimo della fisica. Quando Newton scoprì la legge della gravitazione universale, incominciò a calcolare, per esempio, le orbite dei pianeti. E si accorse che se il sistema solare fosse stato fatto nella maniera giusta, cioè un sole con un pianeta, le cose sarebbero andate molto bene. Due corpi, uno grande, uno piccolo, che ci gira attorno, e fece il calcolo, ed effettivamente riuscì a rendere conto del fatto che i pianeti più o meno avevano le orbite che effettivamente si registravano con gli strumenti. Il problema è che in realtà il sistema solare di corpi ne ha tanti. E lui si accorse, Newton, che quando i corpi non erano due, cioè sole per esempio e mercurio, diciamo, ma anche tre magari, due pianeti, il problema è che questi pianeti si influenzano a vicenda, e non è riuscito a calcolare, Newton, se non c'è riuscito lui, ci possiamo stare pure noi, non è riuscito a calcolare esattamente qual era la soluzione di quello che divenne noto come problema dei tre corpi. Ora, il problema dei tre corpi fu risolto molto dopo, secoli dopo, alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, da un famoso matematico che si chiamava Poincaré, Henri Poincaré, che era il più grande matematico di quell'epoca, insieme a un altro che si chiamava Hilbert, e fu risolto però in una maniera abbastanza strana, cioè Poincaré si accorse che il problema dei tre corpi è un tipico esempio di quello che si chiama il caos deterministico, cioè si conoscono le leggi di questo problema, cioè in teoria le soluzioni esistono, però se noi cerchiamo di risolverlo, beh, ci sono dei problemi perché da dove arriva il caos quando in realtà le leggi sono deterministiche, arriva dal fatto che piccole variazioni, per esempio nelle posizioni dei pianeti, poi producono dopo un po' di tempo delle enormi variazioni nelle loro orbite, e quindi sì, uno lo può calcolare, però il problema è che poi non riesci, no, effettivamente a mettere i dati iniziali nella maniera giusta, e quindi ti viene un gran casino, infatti lo si chiama caos, no, o caosino, no, se uno vuole usare questa cosa, e voi direte, va bene, a noi che ce ne importa, oggi con i computer più o meno si approssimano, ma se uno vuole essere malizioso come era lui, uno dice problema dei tre corpi, quali sono i corpi che vi vengono in mente, no? Beh, naturalmente sono i corpi come i nostri, no, e anche lì c'è un problema dei tre corpi, che riflette esattamente le stesse problematiche che poi hanno i tre corpi nella gravitazione di Newton. Quali sono le cose che scoprì Poincaré? Scoprì che anzitutto per risolvere il problema dei tre corpi bisogna stare attenti, no, perché il modo più semplice è prendere agli inizi due corpi e poi inserire alla fine le perturbazioni del terzo corpo, e questo anche nel problema dei corpi fisici, no, succede così, no, agli inizi ci sono due corpi che vivono felicemente, no, innamorati, no, l'uno dell'altro, e ad un certo punto arriva il terzo corpo, no, il corpo estraneo, no, il terzo escluso, no, e che cosa succede? Poincaré fa vedere che con i pianeti, no, succede anzitutto che il sistema è instabile, instabile vuol dire che prima o poi si rompe, no, a un certo punto uno dei pianeti se ne va oppure le cose collassano, eccetera, e questo è quello che succede anche nella vita quotidiana, quando ci sono, molti di voi magari l'avranno sperimentato, perché è inutile fare teoria, no, è molto meglio fare pratica in queste cose, no, quando ci sono tre corpi messi insieme, il problema è che il sistema diventa instabile, e non soltanto è instabile, ma non si può prevedere quello che succederà, quindi attenzione, se voi volete fare la parte del terzo corpo nel problema di due corpi di altre persone, no, state attenti perché quando vi inserite, no, come corpo estraneo, no, in questo sistema che era in equilibrio, ad un certo punto le cose diventano imprevedibili, no, e prima o poi le cose collassano. Questa è un'ottima applicazione, non so se tu poi l'applicherai nella tua vita, vedo che sei tenuto d'occhio abbastanza strettamente, no, dal tuo secondo corpo, ma ricordatevelo, voi che siete giovani, no, che il problema dei tre corpi è insolubile, e soprattutto è instabile, no, e provoca dei guai tremendi, tutto questo parlando ovviamente di pianeti e di astronomia, no, e può creare dei grandissimi casini, però tu mi lanci un bel assist, visto che hai fatto un parallelo fra matematica in qualche caso e relazioni, perché secondo me, Pier Giorgio, con la matematica, non voglio dire fare di più perché questo è già tanto, ma io vorrei dimostrare con questo pennarello e questa lavagna che si può anche... Aspetta che ti giro il foglio, faccio io il bidello, L'aiutante, si può anche rimorchiare con la matematica, o meglio, o meglio, si può non perdere troppo tempo quando... Vuoi andare a prendere un caffè, per favore? O un tè, magari, non hai sete? No, no, vabbè, è giusto che ascolti. Puoi stare a sentire. Quando si flerta con qualcuno in chat, ormai diciamo il metodo d'approccio quasi principale, no, è dovuto grazie a questi sistemi di messaggistica istantanea. E che cosa succede? In realtà, la risposta, il teorema che andrò a enunciare, più o meno empiricamente, lo sappiamo tutti, vi voglio leggere questa cosa per farvi capire cosa voglio dire. Ecco, cioè, supponiamo che lui scriva a lei questo messaggio. Ora io lo faccio lui e lei, ma funziona con tutte le declinazioni del caso. Questo è un teorema gender fluid. Quali sarebbero le altre? No, lui, lui, lei, lei. Siamo al passo con i tempi. Supponiamo che lui scriva a lei, ciao, come va? È un po' che non ti fai sentire. Ho pensato di farti un saluto, anche solo per sapere come stai, insomma, che mi racconti di bello. Il lavoro, tutto bene? Io sto passando un periodo un po' così in ufficio, sai, le solite beghe, per carità, però spero che nei prossimi giorni le cose possano migliorare. Ma non ti voglio annoiare con i miei problemi. Raccontami un po', che hai fatto ultimamente? Ah, se poi uno di questi giorni in pausa a pranzo ci vogliamo vedere anche solo per un caffè o quello che preferisci, fammelo sapere, ok? Dai, un bacione e a prestissimo. Mi ha fatto molto piacere sentirti. E lo invia. E lei risponde. Tutto ok. Fine. Ora, voi... È andata così veramente? Più o meno. Avete subito intuito che qua c'è un problema. Ma come si fa a matematicizzare tutto questo? Secondo me si devono introdurre due elementi matematici. Il primo è il concetto di area. Ora, si sa più o meno tutti, no? Ora le odierò in maniera un po' così. Il professore mi correggerà. Però supponiamo di avere una figura e un'unità di misura. L'area di questa figura, F, è un numero positivo che più o meno indica quante volte l'unità di misura, no? Sta all'interno di questa figura. Ma questo è un concetto che più o meno si sa tutti. Poi c'è un altro concetto interessante che è quello di disequazione. Che ci vuol permettere di... Io qua c'è un'altra figura. Questa la chiamo F1, questa la chiamo F2. E le voglio confrontare queste due figure. Come si fa? Un metodo interessante è fare il rapporto fra le due aree. Cioè io ho che A1 è l'area di F1. Poi faccio il rapporto con A2 che è l'area di F2 e si guarda quanto viene questo numero. Se è uguale a 1 che vuol dire? Che vuol dire? Che sono uguali qui potrebbe essere... Cioè sono due figure equivalenti che hanno la stessa area. Ok? Poi se supponiamo che invece questo numero viene minore di 1 vuol dire che la figura 1 ha area minore della seconda e ovviamente l'ultimo caso se qua c'è un maggiore vuol dire che la figura 1 ha area maggiore della seconda. Se qua ci fosse un 2 che poi dopo ci può tornare comodo. Ha 1 fratto a 2 maggiore di 2. Che vuol dire questo? Vuol dire che la figura 1 è grande più del doppio a area. Grande più del doppio della seconda. E ora siamo quasi in grado di arrivare al teorea. Prima supponiamo di avere lui e lei che stanno chattando. Sono su whatsapp. Chattano. Ora avete visto che quando si scrivono i messaggi il messaggio di lui può essere schematizzato con un rettangolino. Lui scrive e lei risponde. poi lui scrive e lei risponde. Pollicione e basta. Avete capito che si può associare a ogni messaggio l'area. Cioè questo qui avrà un'area che chiamiamo A1, A2 questo B1, B2 e alla fine posso fare posso arrivare a chiamare chiamare io chiamo M chiamiamo M lui M lui è la somma di tutte alla fine della conversazione in chat M lui è la somma di tutte le aree dei messaggini che lui ha inviato a lei. Faccio il rapporto con M lei quindi con l'area con la somma di tutte le aree dei messaggini che lei ha inviato a lui e qua si può enunciare il teorema di Baglioni. Che dice questo? Il teorema di Baglioni dice che se M lui fratto M lei è maggiore di 3 ovvero questo che vuol dire che se lui ha scritto più del triplo di quanto lei di quanto lei sta rispondendo allora la probabilità dell'evento che lei ci sta questa è una finezza questa è una finezza me ne rendo conto la la probabilità questa è per la costante ci sta è uguale a 0 ovvero tradotto se te stai scrivendo più del triplo di lei non te la darà mai mai grazie mille questa è una matematica ah una cosa una cosa che si può vedere subito non si considera bene si potrebbe migliorare questo teorema prof lei dice un pochino però c'ho delle domande scusami perché questo 3 da dove salta fuori quello l'hai deciso tu quella si chiama costante di Baglioni però l'ha usata anche qualcun altro da dove arriva questa cosa hai fatto molti esperimenti esatto questo è un calcolo empirico di questa di questa di questa costante no una cosa che no è che io sono stato quasi benevolo con lui perché solitamente succede che lei visualizza e non risponde voi avete quanto è M lei quando lei non risponde voi avete capito che quando questo numero è 0 qua succede un casino enorme si sta dividendo per 0 e non si può quindi insomma forse questo termine si potrebbe portare di qua questo aiuterebbe si potrebbe anche inserire il messaggio vocale che aprirebbe gli orizzonti straordinari a questo teorema ma non lo faremo ora e io vorrei però secondo me questo teorema è sbagliato ecco perché ci sono è l'unico teorema che porta il mio nome ci sono i contre esempi oggi per esempio eravamo a tavola con la moglie di Umberto Eco e sono sicuro che lì a voglia no Eco scriveva un intero romanzo che gli mandava no e lei che è una persona molto così concisa ma siamo sicuri di questo e poi tu pensi secondo te che quando che quando che con rapporto io no perché sono una persona concisa nella vita ma tu che sei un po' logorroico no con una come lei che parla poco no quindi secondo me la pratica in realtà poi questo è quello che succede spesso che la matematica vi dice qualche cosa e poi in pratica sai come diceva Yogi Berra tu sai chi è Yogi Berra no non so allora voi dovete capire che io provo a scrivere delle mail a Pier Giorgio per stimolarlo su che cosa si potrebbe lui mi risponde dopo circa 25 giorni e c'è un po' dietro questo teorema sul fatto che non mi rispondi e tu mi scrivi sempre delle cose sulle quali io sono costretto a googolare cioè io quasi sempre non conosco gongolare gongolare e googolare quindi Yogi non lo conosco chi è Yogi Yogi Berra adesso è morto da tanto tempo era un giocatore di baseball americano italo-americano ovviamente molti di voi lo conoscono in maniera indiretta perché anzitutto lui si chiamava Berra di cognome veniva dalle nostre parti era andato in America e lo chiamavano i suoi colleghi lo chiamavano Yogi perché voi sapete che baseball è un gioco noiosissimo questi tirano le palle poi si siedono aspettano eccetera e quando lui si sedeva per aspettare si metteva in una posizione che ai suoi colleghi evidentemente richiamava quello degli Yogi indiani quindi Yogi era un soprannome Berra era il suo cognome e Yogi Berra è diventato così famoso perché era uno come il nostro Mike Bongiorno che uno non sapeva mai i giovani non si ricorderanno di Mike Bongiorno ma quelli che hanno un po' più di anni sì era una persona non sapevi mai se era stupido o se lo faceva lo stupido per esempio Mike Bongiorno voi l'avete visto leggere le domande a volte uno si chiedeva dice ma lo fa o lo è tipo quella volta che disse quando è stato eletto Papa Paolo V e quelli gli dicevano non è vi scusami è sei eccetera eccetera e questo Yogi è diventato famoso per cose del genere una volta andò in pizzeria pizzeria americana naturalmente e vi ricordate che in America portano le pizze poi vi tagliano le fette eccetera e misero una pizza davanti questa è anche matematica tra l'altro è una divisione gli misero una pizza davanti e il camelliere gli disse Yogi te la tagli in sei parti e lui disse no stasera non ho fame tagliamela in quattro perché l'idea è che se appunto cose di questo genere e la cosa che lo rese più famoso di tutti è questa frase che è bellissima segnatevela come il problema di prima potrete usarla nelle vostre conversazioni facete con gli amici lui disse la teoria e la pratica in teoria sono uguali ma in pratica sono diversi ed effettivamente dà l'idea di come la teoria e la pratica siano uguali come si chiama? Yogi Berra ma il motivo per cui tutti lo conoscono è Yogi Berra no è certo è l'orso Yogi infatti voleva arrivare lì si venne così famoso che fecero questi cartoni animati in cui c'era questo personaggio che era un orso Berra perché Berra in inglese suonano simili e l'orso Yogi ha preso il nome da questo da questo signore perché ho parlato dell'orso Yogi non lo so posso dire una cosa e poi facciamo l'altro no la cosa Ganza secondo me dice mi torna poco questa cosa qui però c'è della verità che forse è anche l'idea più interessante quando uno gioca perché io ho giocato con la matematica a fare questa cosa qua che è quella di modello matematico cioè io qua ho fatto una semplice modellizzazione di quello che può succedere nella realtà ma quando uno fa un modello matematico deve sempre semplificare quello che vede e quindi ti perdi per forza delle informazioni che poi appunto dice però se succedesse quello non mi torna tanto che possa ancora valere quel teorema qua però questa fa proprio parte del modello matematico cioè quando io prendo questo pennarello e voglio vedere come poterlo servire ancora come casca in terra come si fa? si fa un modello matematico questo non diventa più un pennarello ma diventa un punto invece di essere a camogli su un palco a me mi va bene di essere su un qualunque piano perché tutte queste informazioni che ci sono qua probabilmente mi danno fastidio però poi qualcuno dice sì però io vorrei sapere magari che rumore fa quando cade e quell'informazione si è completamente persa quando questo diventa un punto materiale e non c'è più il palco ma siamo su un piano quindi questo è quando anche si prova a rispondere a che cosa serve la matematica ecco io credo che questo tipo di gioco possa effettivamente stimolare una risposta perché serve a provare a descrivere la complessità di quello che ci circonda semplificandola quindi mi verrebbe anche a dire che la matematica è complessa ma è meno complessa della realtà anzi posso fare un esempio tra l'altro che è un esempio reale che fu usato non è nemmeno un modello perché adesso ve lo dirò è una cosa talmente banale fu usato durante la seconda guerra mondiale quando ancora non c'erano i computer come voi sapete i computer sono stati inventati beh oddio sono stati inventati nell'ottocento da un signore che si chiamava Babbage in Inghilterra che però poi era misconosciuto quindi furono reinventati nel 36 da Alan Turing di cui tutti probabilmente conoscete la storia perché avete visto il gioco dell'imitazione questo film che racconta in parte la sua storia ma furono poi costruiti dopo la seconda guerra mondiale quindi i calcoli per esempio per la bomba atomica non furono fatti al computer c'erano le signorine di cui abbiamo visto a volte questo film diritto di contare il diritto di contare cioè erano uomini o donne che facevano i calcoli a mano e poi c'era un direttore d'orchestra che fungeva da CPU da Central Processor Unit e facevano così e allora non c'erano ancora le previsioni del tempo fatte sui computer e sapete come gli alleati calcolavano il tempo che ci sarebbe stato il giorno dopo questo era un modello molto semplice dicevano domani farà come oggi e la cosa interessante uno dice ma questa è una cazzata e invece no perché se uno guarda il grafico di come cambia la temperatura si accorge che d'altra parte così sono le stagioni nelle stagioni la temperatura in media magari alta d'estate un po' meno in autunno ma le variazioni giornaliere non sono giornaliere non è che ogni giorno la temperatura sale e scende per un po' di giorni fa così poi salta giù oppure salta su e allora supporre che sia sempre la stessa ti va bene parecchie volte certo nei momenti in cui cambia ti va male però quasi sempre ti va bene quindi quello è un modello molto semplice di una situazione complessa che può funzionare parecchie volte certo sta te Pier Giorgio ci vorrei ho già parlato no io so che tu c'hai un'altra storia da raccontarci qual era? i numeri meravigliosi speciali ah sì questa ti è piaciuta una cosa perché questo secondo voi ditemi per esempio qualche numero interessante che conoscete cominciamo da da professor Tozzi non conosci nessun numero interessante dobbiamo fare una lezione privata qualche numero interessante ci sarà non li usi mai i numeri si vede si vede dalle cose che dici la tua 7 ha detto 7 chi ha detto 7? Mario per esempio 7 molti pensano che sia un numero interessante ci sono centinaia di motivazioni per cui lo so i 7 peccati capitali 7 vizi le 7 virtù eccetera eccetera altri per esempio passiamo alla seconda fila un numero interessante 13 lei è la seconda fila la prima fila aspetta questo è interessante questo pi greco però pi greco è complicato preferirei rimanere sui numeri interi comunque certo pi greco è molto interessante 13 come mai signora ma come mai così a 1729 per esempio il signore dice ha visto anche un altro film non soltanto quello di Turing ma quello su Ramanujan chi non l'avesse visto lo guardi si chiama l'uomo che vide l'infinito o qualcosa del genere quello per esempio lo sai lo conosci non hai visto questo film? no con te c'è molto lavoro da fare ti devo insegnare un sacco di cose questo è un bellissimo film che racconta la storia di un matematico indiano che si chiamava Ramanujan che è un matematico atipico perché in genere i matematici hanno delle intuizioni e poi però per verificare queste intuizioni dimostrano le cose che hanno intuito e se uno non dimostra non c'è il teorema per così dire invece questo strano personaggio indiano che è vissuto agli inizi del del novecento aveva questa strana proprietà era quasi un medium diciamo così della matematica e viveva a Madras che è una zona dell'India come si chiama sudorientale diciamo così dell'India e andava al tempio della Dea Kali non so se siete stati in India e vi ricorderete che chi c'è stato che la Dea Kali è una divinità abbastanza paurosa perché spesso viene raffigurata con quattro mani in una di queste mani c'è una testa mozzata nell'altra c'è la spada in un'altra un tamburello eccetera e soprattutto c'è un'enorme lingua che esce fuori dalla bocca e quindi quando uno va a vedere è una cosa abbastanza complicata io ricordo che l'ho vista la Dea Kali la figura naturalmente non la Dea stessa l'ho vista la prima volta che sono andata a Calcutta che è stata un'esperienza per me effettivamente straordinaria ma anche un po' traumatizzante perché uno entra nel tempio tra l'altro forse saprete che Calcutta è la città dedicata alla Dea Kali infatti in Sanskrit si chiama Calicut poi dopo gli inglesi che non riescono a dire nemmeno le loro parole la tradussero con Calcutta e uno entra nel tempio della Dea Kali ed è una cosa straordinaria perché vede tutti questi agnellini bianchi e neri che vengono accarezzati dalle persone che le portano dentro hanno i fiocchetti al collo poi gli danno dei profumi così li tirano con delle cordicelle e uno dice ma guarda che bucolico tutte queste cose poi comincia a sentire degli strani odori degli strani rumori anche e infatti passi avanti nel tempio e vedi che questi agnelli loro li prendono li mettono su una specie di altare e con una spada tagliano la testa a questi agnelli perché è il richiamo di quello che succedeva una volta con gli uomini la Dea Kali voleva vittime umane queste teste cadono per terra c'è sangue dappertutto tu sei con i piedi scalzi perché in India sei sempre con i piedi scalzi ci passi dentro eccetera e cominci a stare un po' male perché non siamo abituati a queste cose poi ti senti trascinare dalla folla che ti prende anche se tu vuoi andare da un'altra parte non puoi e questa folla entra dentro il tempio e passa di fronte all'immagine della Dea che ti guarda così e esci dal tempio io ricordo che ero vicino a un inglese che quando poi siamo usciti così lui mi ha guardato e mi dice a gentleman in India after a visit in the temple must get married cioè un gentleman dopo una visita di questo genere si deve sposare perché il contatto con la signora davanti era stato talmente intimo che il matrimonio era già stato consumato e naturalmente ma questo per dire Ramanujan andava in questo tempio guardava pregandolo la mattina presta e la sera tardi quando non c'era gente la Dea una delle versioni della Dea Kali la Dea Namagiri e sulla lingua vedeva scritta delle formule e andava a casa e scriveva queste formule e ne scrisse quaderni interi che poi ad un certo punto mandò in Inghilterra a dei famosi professori una di queste formule che quando dico in famiglia sempre ancora provoca da una parte il disgusto razionale e dall'altro la sorpresa e adesso ve la scrivo voglio usare anch'io la lavagna così vi faccio una domanda la bambina non chiede alla mamma la risposta per non spoilerare la cosa com'è che tu sei riuscito a farlo meglio di me sei più giovane allora è una somma molto semplice benché infinita ed è questa somma qua 1 più 2 più 3 più 4 più 5 non li metto tutti naturalmente perché l'idea è di mettere insieme tutti i numeri interi tutti i numeri interi quanto viene la somma cominciamo dall'altra parte perché non voglio far far brutta figura che ne ha già fatta abbastanza stasera a Mario signora lei mi dica potete anche consultarvi fra voi no le ho detto prima di non fare la spoiler però lei l'ha detta adesso viene sul palco e lo dimostra venga su venga su a scrivere venga venga adesso vediamo questo signore che non sa nulla di matematica e che viene a darci una risposta senza nessun senso prego prego deve togliere il cappuccio dalla cosa prego vada e scriva scriva quello che ha detto come si chiama signore Ramanujan come si chiama lei è il nipote di Ramanujan scriva grosso che si veda anche da lontano fate un video qua succede qualcosa di meraviglioso meno un dodicesimo ma è sicuro? cioè questa è una somma è una somma di infiniti numeri positivi e il signore ci ha messo meno dobbiamo scusarlo poi non solo un dodicesimo è più piccolo del più piccolo numero che viene sommato com'è possibile che la somma di tutti questi numeri faccia meno un dodicesimo lei come l'è venuto in mente? mi dica ha visto il film? ha visto il film? no no io l'ha fatto proprio lei conosce i numeri? conosceva la formula no vabbè ma questo l'ha per sentito dire lei si fida sempre delle cose che sente dire? lei si fida se io le dicessi invece che invece di un dodicesimo viene 32 questo matematico indiano aveva trovato questa formula poi dopo diciamo se ne discusse parecchio lei ci crede o no? anche Riemann aveva trovato la formula chi? Riemann ah questo signore sa un sacco cosa fa lei nella vita? lei le usa queste cose qua? lei le usa queste cose qua? beh sì allora non le insegnavo perché è una cosa no ma le usa dicono la vita proprio quotidiana no? no io mi sono interessato anche l'informatica quindi questa sera avete visto che tutto questo naturalmente dobbiamo dirlo che è preparato prima no? gliel'abbiamo detto prima però fa pur sempre un certo effetto grazie vuole sedersi lì insieme a noi che intanto stiamo per finire la cosa interessante visto che il signore è un fisico i fisici spesso fanno i calcoli in questo modo quando si scoprì quella che si chiama la QED la quantum electrodynamics e c'è gente che ha preso il premio Nobel per questo Feynman per esempio che ho citato prima no? quello del sesso eccetera i fisici ogni tanto trovano facendo delle teorie trovano delle quantità infinite no? e questa è la risposta l'infinito sarebbe la risposta più ovvia una somma di questo genere uno più due più tre più quattro diventa sempre più grande diventa infinito solo che nelle teorie gli infiniti non stanno bene e quindi uno li vuole eliminare i fisici che sono fighi usano la parola rinormalizzazione e per fare la rinormalizzazione delle teorie usano somme di questo genere e questo Ramanujan aveva scoperto effettivamente che la somma dei numeri interi è fatta così il signor ha citato Riemann l'ipotesi di Riemann è il più famoso problema aperto della matematica è un problema che chiede vabbè insomma che ha a che fare con la distribuzione dei numeri primi e uno dei valori della funzione che usa Riemann in questa sua ipotesi è proprio questo qua e ce ne sono altri di questo genere perché ho detto tutte queste cose? ah non lo so però non lo so siamo ormai usciti eravamo ai numeri ai numeri interessanti ai numeri interi i numeri interessanti eccetera quindi siamo arrivati poco lontano con i numeri interessanti perché cosa c'è stato detto sette tredici il signor ha barato subito tre tre quattornici eccetera la cosa interessante è che molti di voi avranno avuto altri esempi per esempio il tre oppure spesso l'uno il due e così via la cosa interessante è che possiamo dimostrare adesso faremo una dimostrazione così questa sera li mandiamo con formule di questo genere con dimostrazioni di teorema non tornano più adesso vi dimostro questo teorema che tutti i numeri interi sono interessanti ora uno dire ma che vuol dire interessante? interessante vuol dire che ci piace no che hanno delle proprietà strane ciascuno ha delle proprietà che lo rende diverso da tutti gli altri ok allora come si fa a dimostrare un teorema di questo genere tutti i numeri sono interessanti spesso i matematici partono al contrario facciamo finta che non sia così certo facciamo finta che non sia vero e cerchiamo di vedere se questo porta una contraddizione non sono le famose dimostrazioni per contraddizione allora vogliamo dimostrare che tutti i numeri sono interessanti supponiamo che non sia vero cosa vuol dire? che c'è qualche numero che non è interessante un numero intero se c'è qualche numero intero che non è interessante vuol dire che c'è anche il più piccolo numero intero che non è interessante ma questo è molto interessante perché è una proprietà che c'ha solo lui allora questa è una contraddizione siamo partiti dall'ipotesi che non ci fossero numeri che ci fosse qualche numero non interessante e ci siamo accordi che anche lui è interessante quindi quei matematici spesso fanno dimostrazioni di questo genere che convincono poco sono dimostrazioni per assurdo per l'appunto cosiddette non costruttive una che Hilbert prima ho citato Poincaré Hilbert è stato l'altro grande matematico a cavallo tra 800 e 900 un giorno per fare un esempio di quello che sono dimostrazioni non costruttive aveva di fronte a sé una platea diciamo così di gente come voi e disse io sono sicuro che qui tra voi c'è una persona che ha il massimo numero di capelli ora uno può dire vedo qualcuno che forse non è candidato per queste cose ne abbiamo qualcuno sicuramente non è quello ma come facciamo a sapere che ce n'è uno che ha il maggior numero di capelli e la dimostrazione anche qui è molto semplice perché quante persone ci sono noi vorremmo avere una platea infinita però invece ce n'è solo un numero finito di persone quindi c'è un numero finito di persone quanti capelli ha ciascuna persona beh noi non lo sappiamo ma sicuramente è un numero finito perché se ce n'è un numero infinito naturalmente ce ne accorgeremo subito sarebbe un cespuglio enorme allora ciascuna persona ha un numero finito di capelli c'è un numero finito di persone facciamo una bella tabellina poi mettiamo in ordine le persone in base al numero dei capelli che hanno e sicuramente ce n'è una che agli inizi è una alla fine e quella alla fine è quella che ha il maggior numero di capelli se però io dicessi ma quanti capelli ha quella persona lì e soprattutto chi è quella persona non lo sappiamo non sappiamo chi fra voi ha il maggior numero di capelli e i matematici usano spesso dimostrazioni di questo genere si chiamano dimostrazioni non costruttive perché ti dicono qualche cosa ma non sono sufficientemente precise quindi molto spesso la matematica fa quello dimostra prima in maniera non costruttiva le cose e poi cerca di fare un passo avanti e andare avanti cosa fa il matematico per fare un passo avanti cede la parola al suo compagno siamo quasi alla fine per Giorgio speriamo di no ma comunque no metaforica la dimostrazione per assurdo mi stimola qualcosa perché ora se io vi chiedessi vi piace la tecnologia cioè vi piacciono le innovazioni tecnologiche che abbiamo in questo momento storico vi piacciono? qualcuno dice di sì questa era una domanda vedo una signora che mi fa così però sono convinto che se facessimo un questionario ci sarebbe tante persone che dicono che gli smartphone non ci piacciono tanto che i social network e questa è una cosa che mi incuriosisce sempre mi chiedo come è possibile che il progresso tecnologico sia visto in maniera così negativa tra l'altro c'è anche una cosa buffa Pier Giorgio che ci inorridisce perché le cose buffe le dice a me? no la dico a tutti ma le innovazioni tecnologiche che ci danno fastidio sono soltanto quelle che sono venute a un certo punto della nostra vita Facebook vi ho detto gli smartphone cioè nessuno rinnega le innovazioni tecnologiche che erano già presenti quando siamo nati questo è buffo no? cioè non si è mai sentito nessuno dire oh maremma maiala a me la ruota ragazzi oh sarà che a me le cose proprio rotonde io quando spingo una cosa voglio far fatica non si è mai sentita questa cosa tra l'altro nemmeno le innovazioni tecnologiche che arrivano quando siamo giovani anche quelle lì le accettiamo mentre le innovazioni tecnologiche che arrivano dopo i 35 anni di vita un lievissimo giramento di coglioni te lo fanno venire io mi sono chiesto perché però è così io avevo il mio bisnonno per esempio il mio bisnonno Gigi era ganso perché lui non esistevano le scarpe basse quando era quando era giovane c'erano tanto gli scarponcelli alti quando vendero queste scarpe basse lo volevano portare a comprare le scarpe basse lo portavano vieni Gigi andiamo si va a comprare lo mettevano davanti a queste scarpe dai si compra e lui diceva si e bah le faghi doppie me le danno mezze non le voleva non c'era verso e mi sono chiesto come mai e qui si arriva a una delle frasi che a me mi non ridisce di più quando sento che ai miei tempi si stava meglio ora io vorrei dimostrare il teorema che ho chiamato amichevolmente il teorema del vecchietto al circolino perché è la frase che si sente dire che questo teorema dice che l'affermazione non lo scrivo l'affermazione ai miei tempi si stava meglio non può essere sempre vera come si dimostra per assurdo ora supponiamo per assurdo che sia sempre vera questa cosa cioè che ogni volta che c'è un vecchietto un circolino che dice ai miei tempi si stava meglio abbia ragione allora noi si può si possono costruire due successioni numeriche che cosa sono le successioni numeriche non successioni di numeri è semplice fatte in questo modo la prima successione è la successione chiamiamola VN e la seconda successione è questa anzi BN VN è una successione di vecchietti cioè V1 è un vecchietto della nostra epoca è un vecchietto del 2023 che a un bar dice quando ero bambino io si stava meglio bene quindi V2 è un vecchietto invece che era vecchietto quando V1 era bambino che dice ai miei tempi quando ero bambino io si stava meglio V3 avete capito come funziona V3 è un vecchietto che era che era vecchietto quando V2 era bambino che dice la stessa cosa bene ora mi serve invece una seconda successione B1 che è un quantificatore di benessere no? è un numero B1 è un numero che quantifica quanto si sta bene cioè B1 per esempio è il benessere che aveva V1 quando era bambino bene? che quantifica quanto stava bene V1 da bambino B2 è il benessere che aveva il vecchietto V2 quando lui era bambino chi è maggiore fra questi due? ricordatevi che hanno sempre ragione i vecchietti quindi quando uno dice quando io ero bambino stavo meglio è vero qual è più grande fra B2 e B1? B2 B2 è più grande e voi avete capito che B3 sarà ancora più grande quindi noi abbiamo costruito qua una successione che i matematici chiamano una successione crescente crescente monotona crescente che cresce sempre e qua abbiamo trovato l'assurdo perché? perché io posso trovare un N abbastanza grande che chiamerò così VN grande tale che VN è un vecchietto della preistoria è il vecchietto di Neandertal ora voi avete capito che BN grande è maggiore di tutti gli altri benesseri quindi abbiamo appena dimostrato che l'epoca d'oro della civiltà era la preistoria ma questo è assurdo come volevasi dimostrare grazie mille Pier Giorgio Di Freddi no momento perché io non sono mica d'accordo non sono d'accordo mi rimetto a sedere perché con questo ragionamento tu dimostri per esempio che le cose vanno sempre meglio io ci credo a questa cosa invece la seconda legge della termodinamica ti dice proprio quello cioè che l'entropia cresce e quindi il disordine sta crescendo si stava meglio prima sempre così e la cosa interessante è che dopo che abbiamo per parlare seriamente che abbiamo sentito Mario prima fare il suo discorso il fatto che i giovani accettino le novità tecnologiche e i vecchi invece le rifiutino è semplicemente la prova del fatto che tu potevi vivere benissimo anche senza quelle novità tecnologiche io quando ero bambino non solo non c'erano come si sta meglio all'epoca non solo non c'erano i telefonini ma non c'era nemmeno la televisione e cosa vuol dire uno che viveva a quell'epoca viveva senza la televisione come stava benissimo come stiamo noi senza le cose che ci saranno tra dieci anni tra vent'anni benissimo non sappiamo nemmeno che ci sono e allora quello che diceva Mario è effettivamente io ci credo veramente cioè che la tecnologia è una corsa che anzitutto non ha mai fine perché tu continui sempre a creare cose nuove eccetera intanto non sarai mai soddisfatto non è che arrivi a un punto in cui ti dici bene adesso sono arrivato a questo punto e sono al top c'è sempre da andare avanti e la cosa incredibile è che senza tutte queste diavolerie si viveva benissimo per esempio non c'era la luce elettrica non c'erano i microfoni non c'era niente e la gente era tranquilla e non per questo non credo che fosse infelice se tu leggi per esempio i libri del passato non solo del 700 del 600 eccetera se guardi agli antichi eccetera ti accorgi che effettivamente alcune cose sono rimaste uguali per esempio Aristofane nelle sue rane le rane cosa comincia le rane incominciano con una scena c'è un uomo che sta camminando e ha sulle spalle un enorme sacco pieno di merda e comincia bene questa roba e sapete che cos'era la merda? era la politica dell'epoca cioè tu pensa sono passati 2500 anni e già all'epoca quello non è cambiato non era né meglio né peggio la gente pensava già all'epoca che quello fosse così e però non avevano i nostri tablet eppure ci sono arrivati alcuni dei loro libri alcune delle loro opere eccetera forse una via di mezzo sarebbe la cosa migliore non esageriamo col progresso tecnologico non crediamo soprattutto che il progresso tecnologico ci renda più felici ci renda a volte la vita più semplice certamente ma quando diventa un fine invece che un mezzo per migliorare forse diventa veramente inutile dopo questo pippone in onore di Mario Tozzi e dell'ecologismo forse possiamo andare a mangiare a quattro ganasce in tutti questi ristoranti e divertirci per Giorgio Di Freddi e Lorenzo Baglioni ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti